Salve ragazzi, io sono Zero e oggi siamo su Dragon Age Inquisition Pronti a fare un'altra delle nostre cazzate, perché siamo sempre pronti Bisogna essere sempre pronti, vero? Va bene Ok, stavo dicendo, sono un coniglio da nazione, non so Quello che cazzo stai dicendo tu Non sono neanche un ospite, guarda, guarda, questo uomo ti sembra un ospite Ha uno spadone di 200 kg in mano, non può essere un ospite Ah, stupidi muri invisibili Varre, si tolga un attimo dal cazzo e andiamo a controllare quello che c'è Bravo, continua a cazzeggiare Io vado a recuperare roba mentre loro combattono A sfinimento finché non muoiono col sangue che gli esce dalla bocca Ma tanto, capita Viene qui, dannato Cazzo fa, scappa Direi che non può più scappare Esaminiamo questa roba, cos'è? Artiglio di Dumas Bello Simpatico Ok, fammi piglia questa roba qui E senza di fuoco ho fatto A me non serve ma al mago sarebbe servito Che schifo Chi è che sta pisciando? Dannati pesciatori seriali Candela della chiesa Boh, ok E cos'è questo? Ehm, se Ge-ge-gele ho presci Ehm, ok Costituzione più uno Ehm, non è mica male Stupido personaggio Perché non salti? Allora, qui abbiamo Mi pare di aver controllato tutto Quindi possiamo anche andare alla successiva area Questa lì Questa lì Questa qui Non questa lì Prendite una passione che state crepando Ok Ora non creperanno più E salviamo Visto che nessuno crepa più Bisogna salvare Altrimenti Le cose diventano critiche Dunque C'è un altro cosino qui Sì, c'è un altro cosino qui Anello da trappa di alcuni è migliorato Non so che cazzo sia tutta sta roba Non ne ho idea Allora lo scoprirò dopo E questo Lo strezza più uno Mi sto imbottando di Di Stereo Pah Non mi viene la Ah Stereo Ecco Mi è venuta la parola Mi sto imbottando di steroidi Ragni? Guerra Che checchio è sta roba? Morite tutti dannati Ragnetti del cazzo Eh, io li uccido e voi li date la vita Così si fa ragazzi Gioco di squadra Allora, icone di ragno non gli servono Di là si va per la missione Quindi andiamo di qua Logico Abbastanza logico Oh, qui c'è un altro cosino Salta ciccio, salta Malachite Ok, malachite va bene Malachite Ma salve Se leggete Se leggete Grazie Cazzo Che cosa hai mangiato ieri sera? Eh, ma tu Cosa Sfondategli il culo Brucioso Il culo brucioso Vorrei sapere tanto che cazzo vuol dire Ma va bene lo stessa Se è sempre la stessa cosa Poi Di qua Niente Saliamo allora Eh, ridi di stronzo Riderai quando ti infilerò una spada su per il deretano Eh, direi Quindi vediamo dov'è L'antico Che ci parlava Questi cadaveri sono davvero strani Appunto Eh, che cavolo Qualcuno in più, no? Salute Salute Fattetevi stronzi Mi faccio il culo a stelle e strisce come l'America Ah, ho sbagliato il tasto Ok, va bene E già è crepato Direi che sono quasi crepato Che cazzo ha il torcicollo? Geppetto ha il torcicollo Povero Geppetto Grazie, astuzia più uno Non che mi servisse Ma grazie lo stesso Quindi Lirium rosso che non si può distruggere Io devo andare in tutte le mappe Per distruggere il fottuto Lirium rosso Ora c'è qui Non lo posso distruggere Logico Andiamo avanti Cioè indietro Per poi andare avanti Regnetto Un mostro Quanti cazzo ce ne sono Sono troppo forti Per te Crepo Non mi far perdere tempo Vuoi continuare a cercare di ucciderci Inutilmente Perché io le pozioni Tu non le hai E tu Cos'hai da dire Tu riscola Bastardo Se lo so Sei un fantasma Non puoi dire nulla Ma Ci siamo capiti No? Vai Strauto Uccidilo Il tuo inquisitor È una fraude Cassandra Anche più evidenza Non c'è Non c'è E tutta la tua La tua fede È stato per niente Morti nel voido Demone Ho sempre saputo Che era Bastardo Ma In cio ma Mi sta cercando Di rivoltare contro Ma Non ci riuscirai D'annato demone Perché io salvo La partita ogni Tre fottuti secondi E salvando La partita ogni Tre fottuti secondi Sono salvo Perché se sbaglio Qualcosa carico Logico vero? Allora Passaggio di un diario Con tutte scritte Inutili Prebelli Che poi Nemici Grazie, Hawk. C'eravessi di pensare che tutto ciò che hai mai fatto significato? Non potessi anche salvare la tua città. Come potessi aspettare di rubare un Dio? Sei una scelta, e tua famiglia morta, sapendole. Ovviamente, un temone di fear non saperebbe dove ci sbagliare. Dobbiamo ignorarlo. Esatto, esatto, ignorarlo. Anche se dubito che qualcuno di loro riesca a ignorarlo, forse qualcuno potrebbe anche tradirmi. Ne sono convinti post-road. Guardate la sua faccia. Ha la faccia tipo, si struperò a sangue nella notte di San Valentino. Guarda, guarda, mi è passato attraverso... Ecco, questo era... La... Quello. Non so che cazzo sto dicendo, quindi... Non so cosa dire, appunto. Slow motion. Che c'è questo fatto qui. Non so che c'è questo fatto. Non so che c'è questo fatto. Non so che so che c'è questo fatto. E si prendono il formaggio di spidi. C'è questo fatto che trovo tanto di spidi. Spidi? Voi vedo i maggotti, stai, e stai. E, ovviamente. I temoni che sembra di diverso a tutti tutti noi. Le terreni personalizzati. l'italia ha già un bambino magnifico ma andiamo avanti qui in dala la divina qui non ci si che aspetta un attimo grazie ok cassa di rifornimenti perfetto ora risalvo di nuovo perché per abitudine bisogna salvare devo parlare con lei? no? ah oh mio dio vi salto la parte delle se certo no che cazzo ho messo? non ne vediamo va bene perché si sta aiutando? parlatevi dell'incubo sembra quasi una gentilezza non so perché arrivederci ciao alleluia possiamo uccidere i demoni allora uno è qui quindi l'altro è lei e vabbè ce ne sono parecchi crepa brutto mandrini brutta cosa a quello che sei eeeh 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 un altro slow motion critico qui ragazzi critico qui oh cazzo sto crepando sto crepando sto crepando fuori bravo eeeh sono crepato eeeh basta adesso basta su fatevi i cazzacci vostri e lasciatemi in pace in questo modo bravissimi fatto possiamo recuperare i ricordi farò evaporare le coccinelle con questo potere che c'è che c'è ah ricordo mi sono cagato a dos oh mia dea in da in da in da cosa è questa ho paura del sognatore ah devo mettere qualcosa qui vicino capisco quindi prima di prendere tutti i ricordi devo mettere un coso là vicino allora si che qualcuno sta stuprando qualcosa o qualcosa sta stuprando qualcuno bella domanda chi chi è dov'è quando di qua come ci passo qua sotto cioè come vado dall'altra parte più che altro e qui ti prego fai che si no devo andare dall'altra parte shit e allora mi sa che lo dovremo prendere dopo perchè non si può andare al momento da quella parte però c'è un oggettino andiamo a prendere l'oggettino si sapete com'è questa roba fa schifo non eh si nota scritta di fretta che sia scritta di fretta che sia scritta piena non è che mi interessa un gran che a meno che non mi faccia una bella doccia soltupisciato di verme si purificante e sublime ecco la parola giusta sublime ok saldiamo vai con ops i miei occhi e tra poco si stupra lui da solo sta svenendo ok guardiamo come Keep running! Go! Era tu. Voi pensano che Andraste mi manda da Fade, ma è stato il Divino dietro me. E poi... lei mati. Sì. Quindi questa creature è solo un spirito? Credo che tutti conosciamo che questo era il caso, Warren. Scusate se ti preoccupino. Sicuri che non sia il creatore a quel coso? Oh... No, per domandare. Comunque siete il nostro... L'avete osservato. Siete la sua anima. Siete la sua anima. Siete... 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 E' un martellà. E' un martellà. E' un martellà. Alla prossima video, ragazzi. Bye bye. Siete...